Benvenuti a questa edizione speciale del TG. Allora, abbiamo ritenuto in città che sta suggerendo qualcosa. Allora, un signore strano che si chiama Davide Bister vuole essere il capo di tutto il mondo, vuole distruggere tutta la città. Dobbiamo intervenire e soprattutto dobbiamo mandare qualcosa per farlo sconfiggere. Lui ovviamente è molto nativo e inarrestabile. Lui è strutturalmente un criminale e vuole distruggere la città. Magari vi diamo il dopo dei prossimi aggiornamenti. Ciao amici amici fanpage. Finalmente oggi sarà il mio grande giorno della vendetta. E adesso tu erai sconfitto da me. Adesso vengo io.